schianca vai 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 oh non mi fa parlare what the fuck fra io ti vedo baggatissimo ma io sono baggatissimo cosa vedi dimmi dimmi no vabbè no no che sole in alto e poi scende poi vedo tutta l'acqua guarda ora sta volando al contrario sta volando giuro guarda aspetta faccio un video lo potevo uccidere se ero giusto dritto dai che no non sa fare neanche due più due questo ma c'è che gli era forte però guarda aspetta stai fermo stai fermo guarda se al contrario guarda troppo figo ma la domanda ma dove lo vedi il contrario ok adesso ti sei aggiustato fra ti sei aggiustato questa è bella non l'ho capita però vabbè te l'ho mandato su whatsapp fra di merino lavatrice ti sei aggiustato vediamo se